Grazie per essere con noi anche oggi, benvenuti, questa è una delle edizioni del telegiornale di Esperia, ovviamente oggi l'apertura è sul corteo che il gruppo agricoltori del Crotonese ha tenuto entrando di fatto in città, peraltro non erano soli, noi abbiamo mandato sul posto Massimo Carlozzo. E' partito da Piazzale Milone, poi è arrivato davanti la prefettura di Crotone il corteo degli agricoltori del Crotonese, ormai si protesta da oltre dieci giorni, non solo in Calabria, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei. Le rivendicazioni alla base di queste proteste ormai sono note, tante restrizioni da parte della Unione Europea nel comparto agricolo, ma sentiamo alcune voci. Si va a Roma? Sì, si va a Roma, stiamo convergendo tutti i sit-in d'Italia in un'unica data e ci rivedremo a Roma sotto il Parlamento. Senta, sono praticamente undici giorni che protestate in tutta Italia, in tutta la Calabria, anche nel nostro territorio. C'è un risultato, un primo risultato? Sì, il primo risultato l'abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria, dall'assessorato all'agricoltura. Già mercoledì 31, grazie a noi, è stata portata in consiglio una legge sul consorzio di bonifica, dove la dovranno rivedere. In piazza per rivendicare in qualche modo il futuro dell'agricoltura? Certo, dobbiamo dare un futuro ai nostri figli, non ci possiamo stare zitti e non intervenire in questo momento tragico per l'agricoltura. Come sta andando in questi giorni? Non abbiamo risposte, noi cercavamo delle risposte, speriamo che arrivino presto queste risposte. Intanto si organizza per andare a Roma nei prossimi giorni? Sicuramente andremo a Roma, e se non ci vogliono ascoltare che siamo scesi in strada con i trattori, ci armeremo diversamente, scenderemo con i cingolati piuttosto. Si protesta? Sì, siamo qui a protestare per la manifestazione per gli agricoltori, perché secondo me è una cosa sbagliata quello che stanno facendo, perché giustamente anche loro devono lavorare e è giusto che portano qualcosa a casa. Voi siete studentesse? Sì, sì. Di quale scuola? Ipsia. Allora, oggi al fianco dei lavoratori? Sì, sì. Siamo qua per una lotta contro questa agricoltura, perché ci vogliono distruggere. E a favore dell'agricoltura? A favore dell'agricoltura, giustamente, perché vogliono distruggere la nostra agricoltura. Allora, tu pure sei in protesta oggi? E per forza, perché qua l'agricoltura sta morendo e dobbiamo lottare, altrimenti non c'è futuro per l'agricoltura, dobbiamo lottare finché possiamo. Non si può dire che siano soli tutte le istituzioni locali, a concere dalla regione, lo avete sentito, fra l'altro le prime risposte sono arrivate proprio dalla regione Calabria, ma c'erano anche gli enti locali, sentite. Si è concluso davanti l'ufficio territoriale di governo, la prefettura di Crotone, la manifestazione promossa dagli agricoltori del Crotonese. Dopo 11 giorni di protesta sulle strade, oggi un corteo ha fatto ingresso in città. Ci sono anche tra i manifestanti il presidente della provincia, Sergio Ferrari, e il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Insieme a loro lottano le istituzioni, le istituzioni che dal primo giorno, le istituzioni locali, sono al fianco degli agricoltori, del comparto agricoltura, perché abbiamo la consapevolezza che l'agricoltura rappresenta un settore economico trainante nel nostro territorio e se il comparto esprime un disagio, noi abbiamo il dovere istituzionale di ascoltarli, di stare al loro fianco, di sostenerlo. Dei primi risultati abbiamo raggiunto attraverso il governo regionale. Certo, la lotta è giusta che continua, la protesta è giusta che continua, perché ci sono movimenti in corso sul piano del governo nazionale, sulla Commissione europea, bisogna portare a casa risultati concreti e le rivendicazioni degli agricoltori sono sacrosante, perché è chiaro che se da un lato aumenta la pressione fiscale e dall'altro diminuiscono i trasferimenti, è un comparto in ginocchio. Pertanto una lotta assolutamente condivisibila che ha trovato dal primo momento il pieno sostegno da parte delle istituzioni locali. Guardi, per quello che possiamo fare noi, i tavoli che abbiamo fatto alla regione hanno dato comunque dei riscontri alle richieste che hanno fatto gli agricoltori, per cui, ad esempio, velocizzare tutte le pratiche della PAC e dare almeno gli indennizi che sono in grado di fare alla regione Calabria. Ma la stessa cosa sulla siccità, poi sui cinghiali, insomma, c'è da fare parecchio. A conclusione della manifestazione, Sua Eccellenza il Prefetto Franca Ferraro è scesa dall'ufficio della Prefettura e ha incontrato gli agricoltori. Se noi non produciamo, voi non mangiate. Ma io mi chiedo, da cittadino, non da prefetto, cosa noi mangiamo? E cosa meglio dei prodotti di questo territorio noi possiamo mangiare? Per cui, di comune accordo con il signor Questore, il colonnello dei Carabinieri, il colonnello della Guardia di Finanza, ma soprattutto col sindaco di Crotone e col presidente della provincia, abbiamo accolto la richiesta di svolgere un corteo cittadino per Crotone. E giovedì pomeriggio, fra l'altro, ovviamente a testimoniare vicinanza e solidarietà, sono arrivati anche alcuni leader nazionali di questo comitato, movimento, chiamatelo come volete, insomma, degli agricoltori italiani. Vediamo. Lei diceva che gli agricoltori hanno alzato la testa e sono degli eroi, per quale motivo? Non è mai accaduto nel nostro paese, hanno alzato la testa con fermezza e determinazione, perché la rabbia di ognuno di noi, di ogni agricoltore, diciamo tutte le stesse cose, è confluita tutta insieme in questa grande protesta, in questo grande sforzo di alzare la nostra testa, quindi di dignità, è veramente un'azione di dignità e nessuno, guardate, nessuno vuol mollare, nessuno, se pronunciamo questa parola quasi si arrabbiano tutti, nessuno, nonostante che sono stanchi, nonostante che hanno dormito le notti al gelo, nonostante che stanno sacrificando le famiglie, nessuno vuol mollare, anzi, negli ultimi due giorni altri 80 presidi in Italia nuovi sono nati, quindi rendetevi conto di quello che sta accadendo. Hanno acceso i fuochi anche a Bussello oggi i suoi colleghi? Sì, lo sapevamo, l'avevano preannunciato domenica a Torino. Si può spiegare a mia mamma che ha 90 anni perché gli agricoltori protestano? Proprio perché tua madre che ha 90 anni ha visto, è nata con un'agricoltura con DNA diverso e ha visto com'era l'agricoltura prima, adesso sta vedendo come è adesso, penso che proprio le persone più anziane stanno capendo ancora meglio di noi cosa ci hanno fatto, perché loro hanno vissuto tutta questa distruzione che è partita da 20 anni fa. Contro l'Europa, banche contro le banche? Le banche e l'Europa sono la stessa cosa, non è che stiamo parlando, le banche ci stanno mettendo il cappio a collo, le nostre aziende che valgono magari, che l'ha lasciata mia nonna, mio padre, mio padre a me, valore 300-400 mila euro, io sono indebitato, non che mi dà reddito, magari che vale così perché magari il terreno costa, io sono indebitato 50-60 mila euro con le banche, mi portano via all'asta l'azienda con un tempo rapidissimo, sembra proprio che c'è un sistema per fare questo, e subito si prendono le nostre aziende, i fotovoltaici, queste cose qui, quindi questa cosa è chiara, evidente che c'è una voglia di distruggerci, tutto concordato dal sistema, quindi come ha detto Pino, dobbiamo spaccare il sistema, questo sistema non ci rappresa, non è un problema di costituzione e di democrazia, assolutamente guai che la tocca, anzi, questo sistema è anticostituzionale e non sta rispettando la democrazia, questo sì. Noi non siamo più difesi da uno Stato, le aziende dovrebbero essere tutelate, il lavoro dovrebbe essere protetto, e invece ci ritroviamo in uno Stato che non fa altro, dalla mattina alla sera, come inventarsi per distruggere imprese, per distruggere lavoro, probabilmente è l'ora che il popolo alzi la testa e non resti affacciato a guardare perché non è più il tempo di rimanere addormentati e inermi. Senta, sullo sfondo ci sono le elezioni europee, non è che gli agricoltori danno vita a un movimento per andare in Europa e quindi decidere. Noi combattiamo il sistema dei partiti nella speranza di creare un sistema partecipato da tutte le componenti, se da una parte diciamo che questo sistema è corrotto, crea corruzione, distrugge le economie, distrugge le nazioni e poi nello stesso tempo magari tiriamo su un partito nuovo, siamo dei pagliacci. Noi pensiamo che questo sistema è da distruggere, non da distruggere la democrazia, ma di creare una vera democrazia dove le componenti sociali partecipano alla gestione dello Stato in comunione e non in fazioni, in finte lotte tra di loro. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo del sistema sanitario regionale. Ieri vi abbiamo comunicato che entro metà marzo nelle corsie degli ospedali calabresi ci saranno quasi 500 nuovi medici, 500 medici in più evidentemente, insomma, è con l'auspicio che questo possa innalzare i cosiddetti livelli essenziali di assistenza e quindi la qualità complessiva nella tutela della nostra salute. Nel mentre c'era questo pezzo di notizia, di informazione, si presentava anche il neocommissario di Azienda Zero, Gandolfo Miserenino, il quale fra l'altro aggiunge che obiettivamente le negatività del sistema sanitario regionale calabresa, che pure ci sono, sono probabilmente in numero superiore rispetto all'oggettività. E tutto questo perché? Perché non riusciamo ancora a costruire un sistema di trasferimento dei cosiddetti flussi informativi e quindi di conseguenza ci ritroviamo poi con una sorta di classifica nella quale dovremmo avere più punti e ce ne danno di meno proprio per colpa di queste mancanze di sistema. Ma sentiamo proprio cosa dice il neocommissario di Azienda Zero. 500 medici in più nelle corsie degli ospedali calabresi da metà marzo e poi presentazione del nuovo commissario di Azienda Zero. La conferenza stampa di Roberto Chiuto comunica molte novità. Tra esse un'affermazione di Gandolfo Miserenino, la Calabria fa più di quello che in realtà oggi racconta. E uno dei primi obiettivi è proprio quello di migliorare questi rendiconti amministrativi per far emergere il reale lavoro che oggi la sanità in Calabria mette a disposizione dei cittadini. La squadra che oggi è stata portata dalla struttura commissariale e dal presidente è una squadra che in questi ultimi due anni ha fatto molto lavoro e quindi io ritengo che ci siano le possibilità di poter ovviamente migliorare quelli che sono gli aspetti legati non solo alla qualità di cura che viene data agli assistiti ma anche di rendicontazione delle attività che vengono fatte. Penso che sulla rendicontazione della Regione Calabria nell'ultimo periodo dopo gli anni di commissariamento sia stata un po' penalizzata. Penso che faccia di più di quello che in realtà oggi, permettetemi, racconta in termini di rendicontazione amministrativa. Miserenino ha illustrato i passi che intende fare per rendere finalmente operativa Azienda Zero senza smontare quanto è stato fatto dai predecessori. Azienda Zero avrà quelle funzioni amministrative che oggi sono presenti dentro le aziende liberate dal fardello burocratico e quindi pronte a erogare prestazioni sanitarie che poi è il vero compito di ASP e AO. Uno dei primi passi è quello di convocare i direttori e i commissari straordinari delle varie aziende al fine di decidere insieme a loro quali sono le prime funzioni che passano all'interno di Azienda Zero. Questo ovviamente dovrebbe dare un'accelerata. Sicuramente il percorso è un percorso complicato, si è visto dal suo avvio, ma proprio perché molte funzioni sono funzioni già oggi in essere presso le aziende. Si tratta di fare che cosa? Di riunirsi intorno a un tavolo, capire quali sono le eccellenze che sono state sviluppate, che non è detto che siano sempre le stesse all'interno di tutte le aziende e a questo punto, avvocando a sé questo tipo di attività, Azienda Zero potrà fornire lo stesso servizio a tutte le aziende che ci sono, ovviamente lasciando poi alle aziende sanitarie il compito di concentrarsi su quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. È chiaro che uno degli obiettivi è proprio quello di migliorare questi rindiconti amministrativi al fine di far emergere quello che è il reale lavoro che oggi la sanità in Calabria mette a disposizione dei cittadini. Altro argomento, e questa è una preoccupazione seria, la cosiddetta autonomia differenziata, sapete che questa legge promossa dal Ministro Calderoli ha già avuto il via libera dal Senato, bisognerà andare alla camera, l'iter è abbastanza articolato e sufficientemente lungo, però ci sono un po' di problemi e di preoccupazioni, soprattutto nel mezzogiorno, tant'è che persino la Conferenza Episcopale Calabra ha espresso proprio grande preoccupazione. I Vescovi della Calabria, nel corso della riunione della Conferenza Episcopale regionale, hanno espresso grande preoccupazione per il disegno di legge sull'autonomia differenziata approvata in Senato nei giorni scorsi. Secondo i presuri calabresi, il provvedimento che trasferisce alcune funzioni agli enti locali rischia di diventare motivo di ulteriore divario tra sud e nord e tra aree sviluppate e regioni più povere, minando il principio di unità e solidarietà e compromettendo il diritto alla salute, all'istruzione e l'accesso ai servizi essenziali che lo Stato dovrebbe garantire in forma uguale a tutti i cittadini. La determinazione dei livelli essenziali di prestazione, ILEP, prevista dal disegno di legge, ricorda l'esperienza fallimentare dei livelli essenziali di assistenza, ILEA, che come facilmente riscontrabile non hanno assicurato uniformità del Servizio Sanitario Nazionale. Queste misure, affermano i Vescovi, vengono presentate come utili soltanto per giustificare una formale uguaglianza di trattamento, ma in verità coprono un'inaccettabile disparità che ricorda la famosa espressione orwelliana, alcuni sono più uguali degli altri. Giuseppe Falcomatà e Giusy Chiaminiti si sono incontrati a Palazzo San Giorgio, sono i sindaci di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, si sono visti per mettere a punto una serie di collaborazioni che i due comuni hanno già avviato e intendono sviluppare per un lavoro sinergico che punti alla valorizzazione di una conurbazione sostenibile tra le comunità dell'area dello stretto e nell'ottica di un percorso comune con la sponda siciliana. Al centro del confronto, lo vedete in queste delle foto, tra l'altro, anche l'ipotesi condivisa di uno spostamento degli attracchi per l'attraversamento dello stretto nell'area a sud del porto storico di Villa San Giovanni, insomma in una zona più idonea ad accogliere i flussi di traffico veicolare e quindi consentendo anche peraltro la prosecuzione di un unico fronte mare cittadino tra la periferia nord di Reggio Calabria e quella sud di Villa San Giovanni. Sul tavolo anche la sinergia tra i due enti e con gli altri comuni del comprensorio dell'area dello stretto in vista delle prossime attività propedeutiche alla realizzazione del ponte sullo stretto. E poi ci sono i PIS, i PIS sta per programmi di intervento nel sociale, sono stati approvati all'interno del welfare del comune di Cosenza, lo abbiamo seguito. E' stato presentato a Cosenza il progetto PIS pronto intervento sociale che prevede importanti attività ed azioni destinate a tutto l'ambito territoriale sociale numero 1 per dare immediate risposte alle emergenze sociali che quotidianamente si presentano sul territorio coattivando e supportando il lavoro del settore welfare e dei comuni appartenenti all'ambito. Affidataria del servizio è la cooperativa sociale ADIS Multiservice che dispone di professionalità e competenze nel settore. Ci sono dei senza tetto, dei senza fissa dimora, oppure per esempio ci sono delle emergenze freddo di alcuni senza tetto che devono trovare una situazione alloggiativa immediata almeno per quella notte o per le notti successive. C'è l'equip che interviene, valuta la situazione, valuta il caso, quindi daremo una risposta immediata sia in termini per esempio di vitto che di alloggio. Successivamente poi ci sarà la presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali. Allestita è una centrale operativa di pronto intervento della quale fa parte un'equip multidisciplinare reperibile H24 formata da un coordinatore, un educatore, un assistente sociale, uno psicologo, un mediatore sociale e culturale e due autisti OS. Tra i servizi garantiti dal PIS il supporto abitativo, l'acquisto di beni di prima necessità, la consegna di farmaci a domicilio, il trasporto locale. Sappiamo che la nostra città soffre, al pari di tante altre città del meridione e della nostra regione, un problema che è legato al problema abitativo, al problema esistenziale, al problema dell'assistenza anche sanitaria. Questo pronto intervento sociale, che è un'attività che viene posta nell'ambito territoriale e sociale, riguarda queste caratteristiche, riguarda queste fasce della popolazione che hanno bisogno di un intervento immediato. Noi come settore welfare abbiamo dato diverse risposte a questi problemi, lo stiamo facendo insieme a tutti gli altri comuni nell'ambito territoriale. Oggi presentiamo un'altra offerta per cercare di risolvere i problemi immediati di queste fasce debole della nostra realtà territoriale. Il team di pronto intervento sociale sarà a disposizione delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio, quale punto di riferimento della gestione dell'emergenza. Altra questione, altro problema, l'usura. Ci sono anche comunque dei fondi che tentano ovviamente di trovare risposte dal punto di vista economico-finanziario, prima ancora che da quello giudiziario, naturalmente, nei confronti di chi entra in questo circuito drammatico e maledetto. Se ne è discusso a Crotone c'era il consigliere regionale Pietro Molinaro. Le difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, ma anche il fenomeno dell'usura che spesso strozza le imprese. Questi gli argomenti affrontati nel corso di un'iniziativa voluta da Feni Imprese, guidata da Luca Mancuso, e Crotone Imprese, diretta ad Alfio Pugliese. Presenti all'incontro il presidente della Fondazione Zaccheo, Don Giovanni Barbara, Fabio Tomaino, segretario della UIL. È un problema che c'è nel territorio, ma è silente, è un problema grave e oggi bisogna affrontarlo, ne parliamo con gli amici delle altre associazioni di categoria che fanno parte di Crotone Imprese, bisogna parlarne e trovare le soluzioni. Nel corso del suo intervento Pietro Molinaro, presidente della Commissione Antindrangheta del Consiglio regionale, ha ricordato come nonostante ci siano sia una legge nazionale e sia cospicui fondi, ci sono però poche denunce anche in Calabria. Favorire la denuncia, che non è mai una cosa scontata e semplice, e soprattutto accompagnare chi denuncia rispetto ai danni, ai problemi che ha, parliamo soprattutto di usura. Questo lo possiamo fare tramite le fondazioni anti-usura e i convidi, quindi sono contentissimo di questa iniziativa oggi qui a Crotone per parlare di questi temi, soprattutto per fare sinergia utilizzando molto la legge nazionale 108 del 1996, che è molto capiente di risorse, ma ovviamente spesso non viene utilizzata perché o manca la denuncia o c'è chi non accompagna la vittima. Questo vale per l'usura, ma vale anche per il racket. Secondo aspetto che penso che possa essere di aiuto è quello di fare in modo di lavorare per le famiglie in modo particolare sul sovrindebitamento. È una materia nuova, ci sono gli organismi, i famosi OCC, ma ci sono ancora un po' di resistenza e se vogliamo anche disparità di trattamento da parte dei tribunali. Questa è un'azione che vogliamo fare sensibilizzando i presenti dei tribunali nei prossimi mesi, ma facendo sì che ci sia questa sinergia tra le fondazioni, nei confidi anti-usura e gli OCC. Sono accusati intanto di aver dato alle fiamme a scopo proprio di estorsione, giusto per restare in tema aggravato dal metodo mafioso, le auto di Ida Gattuso, che è la sorella dell'ex calciatore, oggi allenatore dell'Olympic Marsiglia, Rino Gattuso. Due uomini arrestati appunto dai carabinieri di Corigliano Rossano, ritenuti vicini alle cosche d'Indrangheta che operano appunto nella città dell'Alto Ionio. In manette sono finiti Aldo Abruzzese di 51 anni e Mustafa Amil, un cittadino di origini marocchine. Due gli episodi incendiari, vedete peraltro nelle telefoto, compiuti proprio ai danni delle automobili di Ida Gattuso, che in passato fra l'altro ha anche ricoperto la carica di consigliere comunale di Corigliano. Il primo di questi avvenimenti ad ottobre, quando è stata data dalle fiamme appunto una sua auto parcheggiata vicino casa, e il secondo dopo circa due mesi con l'incendio di una seconda vettura di sua proprietà. Adesso parliamo dei carabinieri, in particolare diciamo del corpo forestale dei carabinieri, perché ovviamente insomma vanno a caccia di reati ambientali e nel 2023 ne hanno scovati più di 1700. Conferenza stampa nella prestigiosa sede della Sala Piazza Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sul bilancio 2023 delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti forestali, ambientali e agroalimentari condotte dalla specificità forestale dell'arma dei carabinieri in Calabria e in Sicilia. Il comandante regionale, il colonnello Giovanni Misceo, ha snocciolato i numeri delle attività svolte nell'anno passato. Oltre 52.000, di cui 1560 in Sicilia i controlli eseguiti. Una particolare menzione merita il servizio di prevenzione emergenze ambientale al 1515, svolto quotidianamente in tutte le province della regione, dalle volanti verdi e dai carabinieri forestali, con un impegno complessivo di 9.960 pattuglie impegnate nel monitoraggio del territorio. Tra i settori di intervento primaria è stata l'attenzione rivolta alla tutela del territorio, ai fini della conservazione e dell'assetto del suolo spesso minato dall'intervento dell'uomo attraverso illecite azioni quali tagli di piante abusivi o furtivi, senza tralasciare gli incendi boschivi. Ed ancora quello dei rifiuti continua a costituire una delle fonti di maggiore preoccupazione per l'ambiente come testimonia il numero dei reati degli illeciti amministrativi accertati. Non di minor rilievo per l'interesse collettivo che riscuote il settore della sicurezza agroalimentare, finalizzata al contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari. In ultimo, anche nel 2023, i carabinieri forestali hanno dedicato un particolare sentito impegno all'educazione ambientale nelle scuole. Nell'occasione è stato presentato anche il calendario CITES 2024 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri a cura del legge generale Giorgio Maria Borrelli, comandante del raggruppamento Carabinieri CITES di Roma. Adesso è il tempo, grazie a Trevi Meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà ancora alta pressione in gran parte del Mediterraneo centro-occidentale e dell'Italia, quindi sostanzialmente situazioni stazionarie. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità. Non ci sono nuvole sul nostro paese, passa qualche velatura su parte delle regioni settentrani, ma davvero giornata tranquillissima e quindi precipitazioni del tutto assenti, anzi il problema è che avremmo bisogno di un po' di pioggia, anche un po' di neve, invece per il momento ancora tutto tace, come vedete. Quindi in definitiva giornata di sole in gran parte d'Italia, temperature particolarmente miti, perché da nord a sud potremo toccare 15 gradi, al centro-sud e potremo anche superarli. Vi segnalo solo a fine giornata il trovo di un po' di nebbie e foschie in pieno Europa d'Ana. Per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trevi Meteo. 14 e 25, casi 26 minuti, ci fermiamo, diamo la linea a Luigi Saporito, il suo Smart Sport, noi ci vediamo più tardi alle 5 e mezza.